E' l'inizio diciamo della storia, noi ci siamo conosciuti trovandoci a letto, possiamo dirlo? Mi ha girato l'ingroppamento a letto, mi è stato bello, mi sono deciso. E io non me lo ricordo. Polpino un po', poverino! Facciamo naturale, così siamo più naturali. Ma vieni! Stai menando, ok? E' quello? Si. Cazzo, cosa vuoi da buttare per terra? Eh, ma di tutto da me ne faccio, io inizio da me ne faccio. La nostra collaborazione è così, lei in realtà è così. Sono qui. La nostra collaborazione è così, lei in realtà è così, lei in realtà è così, lei in realtà è così. La nostra collaborazione è così, lei in realtà è così, lei in realtà è così. Grazie. Grazie.